TGL News con la cronaca in primo piano. Nel tardo pomeriggio un incidente tra un furgone e un camion ha provocato forti rallentamenti sull'autostrada A1 nel tratto piacentino. Ferito uno dei due occupanti di questi mezzi coinvolti, fortunatamente non ci sarebbero conseguenze gravi, ma ci sono conseguenze gravi sul traffico che è bloccato, è comunque rallentato nel tratto piacentino dell'autostrada A1. Veniamo alla cronaca più strettamente locale, una piacentina di 33 anni è stata arrestata, si trova ai domiciliari perché è sorpresa questa notte a rubare nella borsetta di una novantenne nel reparto di geriatria dell'ospedale. La donna anziana se ne è accorta, è stata immobilizzata da questa donna di 33 anni piacentina, fortunatamente però le infermiere sono riuscite ad avvertire le forze dell'ordine, è arrivata la polizia che ha arrestato questa donna. A proposito di arresti, i carabinieri ne hanno effettuati quattro di persone ritenute molto pericolose, avevano prelevato da casa, quindi sequestrato e poi minacciato un giovane per farsi dare 300 euro. I carabinieri sono intervenuti, è accaduto in Valdarda questo fatto e hanno come dicevamo messo le manette ai polsi di queste quattro persone. E poi parliamo anche di viabilità, tanto in città quanto a Fiorenzuola fa discutere la zona traffico limitato, in città si parla ancora della riorganizzazione del corso e di via Venturini, via Venturini potrebbe entrare nella ZTL ma i commercianti sono contrari, mentre a Fiorenzuola, sempre a proposito di ZTL, si sono avviate le consultazioni per cercare di capire in che modo estenderla, anche in questo caso si attendono le proposte dei cittadini. Oggi è anche giornata di campionato, il Piacenza ha pareggiato 3 a 3 sul campo della Racing Roma, mentre questa sera al Garilli alle 20 e 30 al Piacenza ospita il Como, come ogni giovedì poi alle 21 Piacenza di notte e questa sera Giuliano Ligabue con la sua chitarra a sette corde. Per ora è tutto, appuntamento al TGL delle 19.30 su TeleLibertà.